ciao ragazzi e bentornati sul canale mac gabry collections ed eccoci tornati con un nuovo appuntamento del plastico ferroviario dell'orient express allora questo video tutorial faremo unboxing del fascicolo numero 116 dove continuiamo con il corso di fermodellismo sia con la terza parte della posa e dell'allacciamento degli edifici e dei lampioni infatti andremo a vedere come andranno eseguiti collegamenti elettrici dei fili dei lampioni degli edifici e il collegamento dell'alimentatore delle luci e non solo per quanto riguarda la parte di assemblaggio andremo a montare gli elementi di sostegno della seconda tettoia della falegnameria e poi allegati a questo fascicolo troviamo altri due lampioni un'altra panchina e un altro sacchetto di erba sintetica per l'allestimento del plastico ferroviario ok siete pronti con questo unboxing con iniziamo vai orient express e prima di iniziare l'unboxing mi raccomando lasciate un super like al plastico ferroviario orient express al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale mac gabri collections per seguire la costruzione del plastico ferroviario a proposito vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dove potete trovare già tutti i tutorial che abbiamo realizzato andate a vedere anche l'ultimo video pubblicato del modellino del titanic qui andiamo ad assemblare il supporto che verrà utilizzato per l'esposizione del modellino quindi proprio il primo supporto del basamento completo del terminale che servirà poi per i collegamenti elettrici a tutto l'impianto del titanic un supporto molto alto che metterà proprio in risalto il modellino veramente fatto bene spettacolare andate a vedere detto questo iniziamo un unboxing e anche oggi è giorno buono per fare modellismo iniziamo andiamo quindi a vedere fascicolo numero 116 dell'orient express opera distribuita in edicola da lascette per collezionisti e per modellisti andiamo a vedere i componenti allegati con il prossimo fascicolo allora ci sono componenti della falegnameria altri due lampioni e poi due rotoli di rete metallica molto interessante continuiamo quindi con il corso di fermodellismo con la terza parte dei collegamenti elettrici di edifici e lampioni procediamo allora in questa prima fase si procederà con i collegamenti dei fili di illuminazione degli edifici allora facciamo un attimo un passo indietro per capire dove eravamo rimasti allora nel tutorial precedente avevamo passato tutti i cavi elettrici dell'illuminazione di questi tre edifici al di sotto del plastico quindi abbiamo ricavato un foro in corrispondenza di questa parete intermedia per far passare i due cavi elettrici provenienti da questi due edifici quindi lo chalet e della segariere quindi questi due cavi sono passati all'interno di questo foro e ci siamo ritrovati a lavorare sotto a questo chalet quindi in corrispondenza di questa zona del plastico ci ritroviamo tutti i cavi elettrici di illuminazione di questi tre edifici quindi partiamo da qui ci ritroviamo quindi in questa zona del plastico che praticamente sotto allo chalet quello isolato quindi la parete di riferimento è questa cosa bisogna fare adesso bisogna andare a ricavare diciamo in prossimità della parete adiacente quindi stiamo parlando di questa parete ok si va a ricavare un altro foro questo foro si trova più o meno al di sopra dell'altro foro che è stato realizzato in un altro video tutorial praticamente questo faro ce lo ritroviamo qui sopra e questo servirà per far passare tutti questi cavi al di sotto del piano d'appoggio del plastico ferroviario quindi più o meno il foro si trova in questa zona quindi tutti questi cavi che stanno qui sotto vengono portati qui e fatti scendere attraverso questi due fori quindi primo foro sulla parte più alta della montagna e il secondo foro che troviamo proprio al di sotto in corrispondenza di questa zona a questo punto andiamo a prendere un pezzo di cavo rosso nero comunque i cavi che abbiamo a disposizione e cominciamo con il collegamento elettrico quindi qui abbiamo sulla sinistra i due cavi dell'illuminazione dello chalet e della segheria sono esattamente questi due poi abbiamo questo che viene dall'alto è l'illuminazione dello chalet isolato e quindi tutti questi tre cavi li abbiamo qui sotto e poi andiamo a prendere un altro cavo questo cavo è quello che faremo passare da sotto il piano d'appoggio del plastico ferroviario passiamo attraverso questo foro passiamo attraverso l'altro foro dell'altro piano e ci ritroviamo in uscita esattamente in questo punto eccolo qui a questo punto non facciamo altro che spellare tutti i cavi rossi tutti i cavi neri e andiamo ad unire tra di loro il cavo rosso con tutti e tre i cavi rossi provenienti dai chalet e il cavo nero li andiamo lo andiamo ad unire con tutti i cavi neri provenienti dagli edifici abbiamo fatto semplicemente un collegamento in parallelo quindi adesso ci siamo ritrovati sotto il plastico ferroviario con un unico cavo che è collegato a tutta l'illuminazione dei tre edifici sulla montagna si procederà poi con il collegamento dei fili dei lampioni allora più o meno sarà la stessa procedura che è stata realizzata per i cavi dell'illuminazione degli edifici allora quindi ci troveremo con dei cavi qui sulla sinistra e dei cavi sulla destra allora qui andranno a cadere i fili provenienti da questi quattro lampioni che troviamo nella zona dello chalet e della segheria quindi abbiamo quattro fili bianchi e quattro fili nudi mentre sulla destra troviamo gli altri tre lampioni che sono questi eccoli qui 123 in prossimità dello chalet isolato quindi ci troviamo altri tre fili bianchi e altri tre fili nudi adesso non facciamo altro che spellare tutti i fili bianchi e li andiamo ad unire tra di loro quindi qui uniamo quattro fili bianchi tra di loro e i quattro fili nudi tra di loro stessa cosa facciamo sull'altro lato ecco qui in questa immagine si vede chiaramente i tre fili bianchi uniti tra di loro in corrispondenza di questo punto e gli altri tre fili nudi collegati tra di loro quindi questa è la prima procedura a questo punto andiamo a prendere un altro spezzone di cavo che facciamo sempre passare da sotto il piano del plastico lo facciamo salire attraverso questi due fori e ce lo andiamo a ritrovare in corrispondenza di questa zona e temporaneamente lo lasciamo qui adesso andiamo a prendere un altro spezzone di cavo che sarà più o meno di questa lunghezza quindi deve partire da questa zona e raggiungere la zona sulla sinistra spegliamo quindi il cavo rosso e il cavo nero e andiamo ad unire il cavo rosso andrà unito con i quattro cavi bianchi che sarà il polo positivo mentre il cavo nero andrà collegato con i quattro cavi nudi io li chiamo così sono cavi non isolati e quindi abbiamo questo spezzone che ce lo ritroviamo in questo punto quindi abbiamo lo spezzone più il cavo che arriva da sotto il plastico e a questo punto li spegliamo entrambi sia il rosso che il nero e andiamo a congiungere tutti e due i cavi rossi con i tre cavi bianchi e i due cavi neri con i tre cavi nudi in questo modo abbiamo esibito il collegamento quindi sotto il plastico ci ritroviamo due cavi il cavo che proviene dai collegamenti in parallelo delle luci degli edifici sulla quale andiamo ad attaccare attenzione un pezzo di nastro carta con sopra scritto luci degli edifici e poi ci troviamo l'altro cavo dove con un nastro andiamo a segnare collegamenti delle luci dei lampioni a questo punto ci spostiamo a lavorare sulla parte inferiore del plastico ferroviario e andiamo a recuperare il cavo delle illuminazioni provenienti dagli edifici della montagna eccolo qui ovviamente l'immagine qui sotto può cambiare a seconda del piano che abbiamo realizzato però la cosa importante è che adesso dobbiamo andare a intercettare le altre luci degli altri edifici allora il primo che andiamo a intercettare è il cavo del serbatoio dell'acqua quindi non facciamo altro che unire sempre il rosso con il rosso e il nero con il nero dopodiché dovremmo andare a intercettare il cavo della stazione ma per fare questo avremo bisogno di un altro spezzone di cavo quindi andiamo sempre ad unire il rosso con il nero e poi lo colleghiamo a il rosso e il nero della stazione a questo punto abbiamo tutto questo gruppo di illuminazioni compreso anche l'edificio che troviamo qui a fianco dello scalomercia tutto questo gruppo di edifici che si trovano in questa zona li andiamo ad unire con un unico cavo rosso e nero lungo che ci servirà per portare il tutto sotto la plancia di comando infatti il cavo rosso il cavo nero le andiamo poi a collegare sui morsetti di alimentazione delle luci quindi il primo cavo lo montiamo proprio qui facciamo attenzione a rispettare la polarità quindi il rosso sul più e il nero sul meno però qui arriverà un altro cavo che quello proveniente dalle altre luci degli altri edifici che troviamo in corrispondenza del raddoppio quindi l'altro chalet e la piccola stazione quindi uniamo sempre il rosso con il rosso il nero con il nero e poi l'ultimo cavo quello più lungo che ce lo riportiamo sotto la plancia di comando e anche questo ne andiamo a collegare sul più e sul meno quindi qui ci ritroveremo due cavi rossi e due cavi neri allo stesso modo andiamo ad eseguire l'allacciamento dei cavi dei lampioni al di sotto del plastico quindi andiamo a recuperare per prima cosa il cavo proveniente dalla montagna eccolo qui che è il cavo sulla quale abbiamo collegato tutti i bianchi e tutti i cavi non isolati dei lampioni che troviamo appunto sulla montagna allora questo cavo dove lo facciamo arrivare lo facciamo arrivare proprio nella parte inferiore della zona della stazione dove troviamo tutti gli altri lampioni quindi quelli del serbatoio dell'acqua del piazzale della stazione di selle tutti quelli che stanno dietro ci sono parecchi lampioni in questa zona qui non facciamo altro che raggruppare tutti i cavi bianchi insieme e tutti i cavi non isolati insieme e quindi li abbiamo li andiamo ad unire i bianchi con il rosso che proviene dalla montagna e quelli non isolati con il nero di quello che proviene dalla montagna a questo punto con il cavo lungo quindi colleghiamo un altro cavo sempre sul rosso e sul nero e ci andiamo a spostare in prossimità della plancia di comando dove negli altri due morsetti liberi in questa zona andiamo a collegare il cavo rosso su più e il cavo nero sul nero ovviamente abbiamo anche l'altro gruppo di lampioni che proviene dai due edifici che troviamo sul raddoppio e quindi avremo un'altra coppia di cavi che che verrà collegata qui sul più e sul meno praticamente lo stesso identico collegamento in parallelo a questo punto siamo pronti per andare a posizionare l'alimentatore delle luci che andrà posizionato in corrispondenza di questo morsetto dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo far corrispondere correttamente la polarità quindi sul cavo dell'alimentatore abbiamo il polo positivo e il polo negativo quindi il polo positivo sul rosso polo negativo sul nero questa è molto importante questa fase altrimenti rischiamo di danneggiare tutte le luci del plastico ferroviario quindi facciamo molta attenzione giunti a questo punto bisognerà trovare un modo per bloccare i cavi quindi sistemarli correttamente al di sotto del plastico ferroviario infatti questi durante questa fase erano stati bloccati semplicemente con del nastro carta qui ci danno diversi suggerimenti come utilizzare una vecchia camera d'aria di bicicletta tagliare delle strisce e andarle poi a pensare con questa graffettatrice praticamente questo è il risultato diciamo che possiamo trovare tanti modi per poter fissare correttamente i cavi in maniera stabile e dura dura nel tempo quindi ragazzi possiamo sbizzarrirci come vogliamo per questo fissaggio allora ed eccoci arrivati finalmente alla fase finale ossia al collaudo delle luci del plastico ferroviario quindi abbiamo qui gli interruttori delle luci con quello di sinistra andiamo ad accendere le luci degli edifici ecco qui un'immagine proposta da Hachette mentre con l'interruttore di destra andiamo ad accendere le luci dei lampioni guardate che bello e poi ovviamente ne andiamo accendere entrambe ed ecco qui il risultato finale con tutti gli edifici illuminati e anche i lampioni praticamente plastico ferroviario si può dire pressoché finito allora a questo punto il corso del modellismo si interrompe qui andiamo a vedere brevemente le fasi di assemblaggio che adesso andiamo a fare sull'edificio della segheria in cui appunto andiamo a montare gli altri elementi di sostegno della seconda tettoia quindi andiamo a lavorare in questa zona dell'edificio procediamo andiamo quindi a recuperare l'edificio della segheria così come l'abbiamo lasciato dall'ultimo tutorial e andiamo a lavorare nella parte inferiore allora come prima cosa andiamo a montare questa parete di rivestimento in corrispondenza della prima tettoia quindi non facciamo altro che incastrare questa nervatura ad L in corrispondenza di questa sede montaggio semplicemente ad incastro quindi allineiamo il tutto e premiamo fino in fondo ed ecco fatto ci spostiamo quindi a lavorare al di sotto della seconda tettoia e andiamo a montare i sostegni allora cominciamo con quello di destra che andiamo a montare ad incastro in corrispondenza di questi i fori ed ecco fatto allo stesso modo andiamo a montare il sostegno sul lato sinistro ed ecco fatto dopodiché andiamo a montare nella parte frontale l'architrave eccolo qui ed ecco come si presenta l'edificio della falegnameria al termine di questa fase di assemblaggio quindi abbiamo completato tutti gli elementi di sostegno delle due tettoie quindi la piccola tettoia e la grande tettoia quindi un altro passo avanti verso il completamento di questo edificio allora ragazzi il video tutorial finisce qui quindi mi raccomando lasciate un super like a Plastico Ferroviario Oriente Espress al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale MacGabri Collections per seguire tutti i prossimi appuntamenti di costruzione del Plastico Ferroviario. Io intanto vi lascio con questa panoramica della segheria e vi do appuntamento al prossimo video ciao